Dal 23 milanese arriva il doppio piccaro all'alto con la riapertura per Mossa e non ha paura di prendere il tiro da 3 e fuori in questo caso sempre 10 a 7 per Brindisi quando fra poco scollineremo la metà del primo periodo. Difesa decisamente da rivedere, Lewis la buca senza problemi e va a schiacciare il più 5 per Brindisi 12 a 7 e 6 a 0 di parziale Brindisino al quinto minuto ancora gentile buona difesa.